Ciao ragazzi, con questa lezione cominciamo a prendere in considerazione una nuova tipologia di testo letterario, il testo teatrale, e ne vedremo i caratteri generali attraverso uno schema. Cominciamo col vedere insieme il significato che ha il termine teatro, un termine che deriva dalla parola teatron, dal theaomai greco, del greco antico, che significa osservare. Quando noi parliamo di teatro, con questo termine in verità intendiamo o possiamo intendere cose diverse, lo spazio scenico sul quale avviene la rappresentazione, il testo scritto dall'autore, ma anche tutta la serie di attività che vengono messe in campo per dar vita ad uno spettacolo teatrale, ossia alla rappresentazione, perché la specificità di questo tipo di testo è che può essere fruibile non soltanto attraverso la lettura appunto di un testo scritto, ma anche attraverso la visione appunto della rappresentazione teatrale. Anzi, il testo teatrale si realizza compiutamente proprio quando viene portato in scena, quando quindi una storia è resa visibile attraverso le azioni che gli attori svolgono sul palcoscenico. Già da questo possiamo capire quindi che ci troviamo di fronte ad una tipologia testuale che usa linguaggi diversi, non soltanto quello scritto, ma anche quello verbale, quello sonore musicale, perché anche i rumori di sottofondo, piuttosto che musiche, possono accompagnare il recitato degli attori. E poi, cosa fondamentale, anche viene utilizzato il linguaggio visivo, il linguaggio dei gesti. Attraverso infatti i movimenti, le espressioni, gli attori in scena accompagnano, arricchiscono, sottolineano il significato delle battute che stanno recitando. Il testo teatrale viene anche chiamato testo drammatico, dalla parola del greco antico drama, che significa azione, proprio perché abbiamo detto che la rappresentazione consiste nel agire una storia, cioè nel metterla in scena, nel renderla visibile. Il testo drammatico è un testo letterario appunto concepito per la rappresentazione e che richiede appunto il passaggio dalla lettura, attraverso l'interpretazione del regista, alla messa in scena, fino alla realizzazione dello spettacolo finale. Abbiamo detto che drammatizzazione deriva da drama, che significa azione, e non a caso quindi coloro che recitano sul palcoscenico vengono chiamati attori, dal verbo agere, che significa appunto agire, perché recitano davanti agli spettatori e la parola spettatori deriva dal verbo latino spectro, che significa guardare, e gli spettatori hanno quindi a teatro in fondo a che loro un ruolo, che è quello di credere che la storia che viene messa in campo, che viene agita dagli attori in quel momento davanti a loro, si stia proprio realizzando in quel preciso momento. Quali caratteristiche ha il testo teatrale, che lo rende diverso dal testo narrativo, dal testo poetico che avete già studiato? Beh, è un testo che non descrive, non narra, non racconta, non c'è, se non narrissimamente, un narratore fuori campo. Sono presenti dei personaggi che attraverso le loro azioni e attraverso soprattutto le parole che dicono, quindi attraverso i dialoghi, consentono allo spettatore che guarda di capire la vicenda, di capire la storia. Quindi è un testo teatrale che si basa sull'azione, sulla cosiddetta mimesi, che deriva dal greco mimesis, che vuol dire appunto imitazione della realtà. Infatti assistendo a uno spettacolo, noi seguiamo la vicenda nel suo farsi, come se si stesse svolgendo per la prima volta davanti ai nostri occhi. Il destinatario di questo messaggio è proprio lo spettatore, che è consapevole della finzione, cioè sa che quello che sta accadendo davanti ai suoi occhi è finto, ma si abbandona ad essa, ossia crede e quindi si fa coinvolgere dalla vicenda che viene rappresentata, proprio come se si stesse svolgendo per la prima volta davanti a lui. Abbiamo visto che usa linguaggi diversi, quindi a differenza del testo narrativo o del testo poetico, che usano soltanto la parola scritta, e poi altro aspetto importante è che il testo teatrale ha una fruizione collettiva. Cosa significa? Che io non posso assistere a uno spettacolo teatrale individualmente, devo per forza di cosi recarmi in un luogo, in uno spazio deputato che è il teatro, quindi un edificio, e lì insieme ad altre persone posso assistere alla rappresentazione. Invece un testo narrativo, un testo poetico, lo posso leggere da solo, piuttosto che in compagnia, e anche in qualsiasi luogo. Esistono diversi tipi di testo teatrale, in particolare il teatro cosiddetto della parola, o anche di prosa, che è il teatro occidentale, e che poi ha dei sottogeneri, che sono la tragedia, la commedia, il dramma, la sacra rappresentazione. Qui ho citato quelle più importanti, ho messo in rosso quelle che poi esamineremo attraverso la lettura di alcuni testi. Ma esiste anche il teatro basato esclusivamente sul gesto, se pensate al teatro cinese, indiano, orientale, che comunica attraverso appunto i gesti, e quindi il mimo, come esempio, e poi il teatro basato invece su parole e musica, come per esempio l'opera e il melodramma. Cominciamo adesso a vedere alcuni elementi della messa in scena teatrale. Cosa si intende innanzitutto per messa in scena? Per messa in scena si intende l'insieme di operazioni che portano a tradurre un testo scritto, cioè il testo drammatico, scritto da un autore, Pirandello, Goldoni, Shakespeare per esempio, in uno spettacolo viene portato in scena e rappresentato all'interno di un teatro. Si tratta di un'operazione molto complessa che richiede la collaborazione di figure anche specializzate e diverse. Vediamo insieme alcune di queste componenti fondamentali. Cominciamo innanzitutto dal regista. Ecco, il regista innanzitutto non va confuso con l'autore, perché l'autore è colui che, chiamato anche drammaturgo, ha scritto il testo drammatico o abbiamo visto testo teatrale, che dir si voglia. Il regista invece è colui che è autore della messa in scena o meglio è colui che, letto il testo e data in una sua interpretazione, si occupa poi di mettere in scena quel testo teatrale secondo la lettura che lui ne ha dato e decide anche di mettere in evidenza determinate tematiche, ma che soprattutto poi coordina il lavoro che coinvolge varie professionalità. Il regista può decidere di restare fedele al testo teatrale oppure di reinterpretarlo, interpretandolo liberamente alla luce anche del contesto storico, politico, sociale nel quale sta vivendo. Ecco perché, a differenza del testo di narrativa o del testo di poesia, che sono sempre uguali a se stessi in quanto scritti, la rappresentazione di un testo teatrale cambia sempre a seconda del regista che la mette in scena. Quindi è uno spettacolo che si rinnova continuamente. Questo significa che Romeo e Giulietta messa in scena da un regista non è Romeo e Giulietta messa in scena da un altro. Quindi Streller piuttosto che un altro regista. Come figura, ecco quella del regista, è comparsa in tempi relativamente recenti, a partire dalla fine dell'Ottocento. Prima c'era invece la figura del capo comico, che compare in verità soltanto dal 5-600, in particolare con la commedia dell'arte. Il capo comico era in verità una figura che aveva ruoli molto più ampi rispetto a quello del registro di oggi. Per intenderci era anche colui che spesso finanziava la compagnia itinerante che si spostava da una parte all'altra per mettere in scena le rappresentazioni. Ma lo vedremo meglio quando parleremo di Goldoni e della commedia dell'arte. Quindi ogni regista ha un suo stile che dipende dalla poetica teatrale e dall'uso dei linguaggi che decide di... Gli attori sono ovviamente il punto focale, centrale dello spettacolo. Senza l'attore non esiste rappresentazione teatrale. Ed è appunto dalla loro interpretazione, dalla voce che usano, dalla mimica facciale, dai gesti, dei movimenti che assumono in scena che nasce uno spettacolo teatrale con delle caratteristiche piuttosto che altre. Abbiamo detto prima che anche il pubblico è un elemento che in qualche modo contribuisce alla messa in scena perché il teatro si rivolge direttamente a chi è lì ad ascoltare, a guardare e come dicevo prima il teatro si basa proprio sull'imitazione della realtà ed è come se il pubblico accettasse questa convenzione, cioè una sorta di patto non scritto, cioè crede che gli attori recitino proprio come se il pubblico non esistesse, cioè non esistesse quella quarta parete che separa la platea dal palcoscenico. Un altro elemento fondamentale del testo teatrale è la scenografia, curata appunto da quella figura che viene chiamata lo scenografo e che lavora a stretto contatto con il regista. Lo scenografo cura l'ambientazione dell'azione teatrale e quindi si occupa di che cosa? Della scelta dell'arredo, del fondale che è quello che sta proprio di fronte al pubblico e delle quinte laterali che delimitano ai lati lo spazio scenico. La scenografia è importante perché soprattutto se è una scenografia di tipo realistico ci permette di, soltanto all'aprirsi del sipario, ci permette di capire l'epoca in cui è ambientata la vicenda oppure il luogo in cui si sono svolti i fatti ma soprattutto può variare a seconda dell'interpretazione o tipo di rappresentazione che il regista ha deciso di adottare cioè se realistica, fedele alla realtà o simbolica. Cosa vuol dire simbolica? che attraverso per esempio una scenografia minimale ma anche costituita da uno spazio vuoto semplicemente occupato da una sedia sulla quale illuminato da una luce si siede l'attore decide appunto attraverso anche questa scenografia più o meno ricca di trasmettere dei messaggi per esempio il senso di solitudine di abbandono di isolamento di alienazione nel caso di una scenografia appunto ridotta all'osso quindi può essere realistico simbolica dettagliata o essenziale fisso o mobile quindi mutare nel corso della rappresentazione a seconda degli atti e comunque lo scenografo lavora sempre seguendo le indicazioni del regista non mi soffermo sull'importanza dei costumi e delle luci così come anche della musica perché l'avete spiegato sul testo ed è già molto comunque molto semplice in classe attraverso la lettura di alcune pagine tratte da testi teatrali diversi vedremo altri aspetti proprio tecnici del testo drammatico e del linguaggio che viene utilizzato in particolare parleremo di personaggi cercheremo di capire cos'è un atto e cos'è una scena riconosceremo i diversi tipi di battute e capiremo cosa sono le didascalie e che funzioni hanno e che funzioni hanno e che funzioni hanno